al cane che non piace il pesce piace il pesce alcuni giorni fa ho pubblicato un video dove ho parlato di un cane che non mangiava il pesce dei croccantini cibo industriale perché poi il risultato è in questo cibo di pesce c'era ben poco e c'era un'alta percentuale di amido oltre il 56 per cento pur essendo un cibo di una linea listea ma in realtà un cibo industriale altamente processato sono stato a trovare questo cane personalmente e nell'occasione ho portato un cibo sano al pesce cotto a temperature basse con ingredienti naturali cibo artigianale e il cane ha mangiato il pesce addirittura questo cane di 14 anni reduce da un intervento da una torsione gastrica che era disinteressato al cibo ha alzato le orecchie e ha cominciato ad avvicinarsi a me che l'avevo e ha chiesto questo cibo inoltre gli è stato poi dato un cibo sano fresco proveniente da animali da pascolo che mangiano l'erba cotto a basse temperature un cibo completo di tutti i minerali e questo cane addirittura si è alzato in piedi cosa non faceva da giorni ed ha mangiato questo cibo quindi la morale è che se ai cani viene dato un cibo sano i cani lo sanno riconoscere e traggono benefici provano piacere gioia a mangiarlo e gli è per la loro vita sana felice insieme ai loro proprietari ciao da stefano stefano pesci istruttore doatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione problemi nel benessere il cane il comportamento del cane consulente alimentare di cibo sano per un cane sano forte e vitale l'esce era un cane insegnante se ti fa piacere mi può contattare dal mio sito internet www.istruttorecinofilo.it consulenza alimentare gratuita